La telenovela Mercato prosegue, i legali degli ambulanti che hanno presentato ricorso al TAR ottengono il rinvio dell'udienza per impugnare gli ultimi atti prodotti dall'amministrazione. La giustizia potrebbe avere tempi lunghi, la domanda è netta. Sabato tornerà il mercato, la risposta di confesercenti in conferenza stampa. Se sabato il piazzato, quindi l'area che il Comune ha individuato in maniera provvisoria e temporanea sarà attrezzato in maniera minima e dignitosa affinché gli operatori possano fare il proprio lavoro, nulla a questi. Però ad oggi, siccome non stiamo partecipando a queste tavole che il sindaco sta facendo singolarmente con alcuni sparuti operatori, io non so se sabato ci saranno queste condizioni. Vedremo che cosa succederà. Intanto il sindaco in diretta sul canale 90 risponde ai tanti quesiti sul mercato. Annuncia per sabato mattina la convocazione dei sindacati, poi lunedì assemblea plenaria. Forse da martedì Avellino riavrà la sua fiera a meno di nuovi colpi di scena nella telenovela caratterizzata dal braccio di ferro. Sabato mattina incontreremo, immagino col vice sindaco, assessore alla nona, gli operatori rappresentati dai sindacati in questo caso. E poi lunedì in plenaria definiremo finalmente i posteggi, mi auguro che sia la riunione definitiva, poi si procederà a disegnare sulla spalla. Sabato, sindaco, sabato, si faranno queste riunioni o si farà anche il mercato? L'area è pronta, è disponibile. Gli operatori mi dicono, però vogliamo prima definire i posteggi, io rispetto la loro scelta. Ci sono situazioni che vanno attenzionate e vanno approfondite. Io le ho detto prima, direttore, non c'è solo la vicenda dei pagamenti, c'è la voglia di una supremazia. Lei qualche tempo fa parlò di zone grigie, di zone scure. Rispetto a un mondo che pensava di rappresentare una zona franca in relazione al rispetto delle regole e alla trasparenza. Io sono andato sicuramente a intervenire in quel mondo perché quei mondi nella mia città non possono esistere. Un pezzo 6 euro, 3 pezzi 15 euro. Natangelo Professional, via Piave, Avellino.